Valle Crosia avrà un parcheggio con pannelli fotovoltaici, ce ne parla il sindaco Armando Biasi. È una nostra abitudine ormai con Sanremo News spiegare le varie progettualità che la nostra, la mia amministrazione ha sviluppato in questi cinque anni. Anche perché molte volte dietro, come in questo caso una pratica, ci sono anni di lavoro. In questo caso il comune, la mia amministrazione, cinque anni fa dietro la farmacia Goso eredita un terreno di proprietà dove la precedente amministrazione aveva ottenuto questo terreno che erano delle serre, della sabbia e delle staccionate non utilizzabili in cambio di indice dei proprietari. Da quel momento la nostra amministrazione ha fatto due cose fondamentali. La prima ha cercato di rendere funzionale quel parcheggio creando una grande spianata di 9.000 m2 e illuminandolo. Ovviamente in questi anni chi l'ha utilizzato si è reso conto che è un parcheggio molto utile che ha aumentato la possibilità di accedere alla passeggiata mare per chi d'estate, d'autunno, d'inverno vuole frequentare la nostra splendida passeggiata mare. Però dall'altra parte ovviamente non è il top perché sotto il profilo estetico funzionale poi si formano le buche e non è l'ottimale. Da lì da tre anni a questa parte abbiamo cominciato a lavorare su un progetto che è una procedura aperta per l'attivazione di un partenariato pubblico privato attraverso il leasing in Costruendo che è una forma di una procedura pubblica che prevede il coinvolgimento in un rapporto pubblico privato affinché le banche sono una serie di banche in Italia strutturate affinché si possa realizzare queste opere affinché il comune nel percorso di quest'opera pubblica ne abbia immediatamente i benefici, ne abbia la manutenzione ordinare e straordinaria a carico del soggetto attuatore e dopo 20 anni il comune diventa proprietario. Cosa abbiamo fatto? È un intervento che come opere, come valore sono 5 milioni di euro. Abbiamo espropriato e in questi giorni stiamo definendo le ultime firme i terreni che vanno dall'attuale parcheggio come si vede dalla planimetria, dall'attuale parcheggio che è l'ingresso che avviene da questa parte qua quindi questa parte è già in possesso del comune. Tutta questa parte sono 14 mila metri quadrati. Il comune lo ha espropriato e realizzerà un parcheggio dove ci saranno le tettoie fotovoltaiche a protezione e quindi creazione di corrente elettrica che andrà a sgravare le bollette comunali della scuola, quindi è un beneficio green e di ritorno economico, così come dall'altra parte parliamo di oltre 300 posti auto, ci sarà la parte che riguarda il verde pubblico perché sarà realizzato il verde pubblico e la ciclabile di collegamento con Via Don Bosco. L'avevo detto anche quando avevamo parlato qui a Don Bosco che i lotti funzionali porteranno a collegare il mare con monte. Quindi in questo caso parliamo che stiamo dotando un progetto strategico che vedrà per la nostra via Aurelia e per la nostra passeggiata a mare la disponibilità di un'area a parcheggio che prevederà anche aree per le ricariche delle macchine elettriche. Sarà un parcheggio ovviamente a rotazione che permetterà per i commercianti che la prima ora sia un'ora libera a rotazione, saranno previsti gli abbonamenti, per cui per tutti coloro che hanno la preoccupazione o qualcuno in questi giorni sentivo ha fomentato l'idea che sulla via Aurelia il comune leverà i posti, no, è il contrario. Qua ci sono dei progetti che dimostreranno che restituiremo non più 9.000 metri quadrati ma 23.000 metri quadrati con una viabilità di collegamento con l'anagrafe per cui stiamo creando un'opera pubblica che diventerà strategica per tre obiettivi. Il primo aumenterà la presenza delle persone sulla passeggiata a mare e sulla ciclabile perché se io doto il nostro comune di servizi sulla passeggiata a mare in realtà do economia a chi in realtà ha dei locali. Secondo aspetto, stesso ragionamento vale per il commercio della via Aurelia. Terzo, avete visto, oltre che essere un'opera finita, quindi asfaltata, illuminata, video sorvegliata, aree verdi, aree parcheggio, nuova viabilità stradale, abbiamo la ciclabile. Per cui chi ha raccontato in queste settimane, raccogliendo le firme, che la ciclabile non sarebbe stata collegata con la passeggiata a mare questo è il secondo lotto funzionale. Adesso stiamo lavorando con la regione a presentare i progetti per il terzo lotto che è quello che collegherà con una rotonda la via Aurelia con via Don Bosco. Cosa voglio dire? Che durante questi cinque anni, ormai siamo in fase di conclusione del nostro mandato amministrativo, davvero i progetti piccoli, medi e grandi hanno visto non soltanto l'idea e la progettazione, ma la finanziabilità e l'esecutività. Questo intervento ci auspichiamo che possa iniziare intorno maggio-giugno e tranquillizziamo che l'intervento non andrà a occupare la parte che oggi è un parcheggio provvisore durante l'estate, ma andremo a lavorare sulla parte che oggi sono serre abbandonate lungo la ferrovia. Quindi da sindaco vi volevo rappresentare, spiegare quest'oggi questa importante opera pubblica che ha comportato enorme impegno da parte nostra, ma soprattutto dai nostri funzionali dirigenti, che ringrazio perché abbiamo uno staff tecnico pazzesco di un livello altissimo, che restituisce alla città un principio. Noi siamo un'amministrazione, un sindaco sui fatti. Lasciamo agli altri la teoria, noi vogliamo la pratica e mantenere le promesse fatte. Quindi avevamo detto cambiamo la città, la stiamo cambiando.